hai un ristorante un negozio di abbigliamento gestisci un bar o una bottega artigiana qualunque sia la tua attività e soprattutto se la tua impresa una sede fisica devi conoscere e utilizzare al meglio google my business per te è uno strumento facile da usare che ti permette di monitorare e gestire la presenza online della tua attività su google in particolare sulla rete di ricerca su google maps per i tuoi clienti è una scheda che compare sul pc sulla destra dello schermo mentre sul cellulare è la prima sezione che compare quando qualcuno ti cerca su google la scheda riporta le foto e le informazioni che tu avrai inserito se rivendichi la tua attività su google my business inserisci i dati nella scheda google nel giro di 12 giorni verifica che sia veramente tua a gestire la pagina lo può fare in modi diversi con cartolina cartacea che arriva nella sede delle attività oppure con una verifica telefonica in primo luogo gestire e aggiornare le informazioni della tua attività non dimenticare di inserire le informazioni fondamentali quali gli orari di apertura il numero di telefono o il sito web 2 interagire con i clienti rispondendo ai loro messaggi alle loro domande o alle loro recensioni 3 capire il tuo pubblico e scoprire le strategie più adatte grazie alle sezioni statistiche potrai scoprire se i clienti ti cercano direttamente oppure tramite la tua categoria di appartenenza ma i dati possono dirti molto altro per scoprire insieme le funzionalità di google my business e aumentare la visibilità della tua impresa cerca su digitale sotto casa gli incontri dedicati su news eventi iscriviti ti aspettiamo